L'autunno con i suoi colori e la stagione dei funghi. I mesi di settembre ed ottobre, se accompagnati da piogge, sono quelli maggiormente dedicati alla raccolta di questi frutti della natura. Un'attività che da sempre appassiona e coinvolge. Oggi apposite normative regolamentano questa passione e diversi sono i corsi di formazione organizzati dalle associazioni che riuniscono quanti vi si dedicano. Siamo stati a Faggiano, dove nella casa comunale si è svolto il corso di formazione organizzato dall'Associazione Micologica Bresadola, gruppo Taras di Faggiano, una tre giorni di attività finalizzata al conseguimento dell'attestato necessario al rilascio del tesserino regionale per la raccolta funghi epigei spontanei. È una passione che ho avuto da sempre, però non l'ho mai messa in pratica e questa è stata l'occasione per iniziare. I tempi sono un po' cambiati, all'inizio si andava all'inizio di settembre, adesso si sono un po' prolungati per il cambiamento delle stagioni. Quanto è importante per tutti gli appassionati di questa attività avere un'adeguata formazione? È importante perché bisogna salvaguardare la salute, con i funghi si rischia abbastanza, però bisogna sapere le specie commestibili e non. Reputiamo importantissimi questi corsi e siamo onorati di ospitare questa associazione, collaborare con loro e patrocinare. delle belle iniziative, partecipate con tanti cittadini che vengono da altri comuni. È una passione per i funghi? Sì, da 40 anni e più, 3-4 volte l'anno ci vado. Poi farà anche le provviste immagino? No, 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 non le faccio provviste, io quando le faccio me le mangio e basta. Ah, quindi non riesce a fare le provviste? No, 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 solo per conto nostro.